Ci piace viaggiare, è una parte di questo lavoro che ovviamente non è sempre semplice da affrontare perché comunque si lascia indietro la famiglia, il fidanzato, la moglie, la fidanzata e la propria casa però insomma è una cosa che ci piace fare, siamo dei privilegiati, possiamo vivere della nostra musica e il viaggiare e il fare tour fa parte di questo lavoro. Rock TV solo su Sky, canale 718